I ruggenti anni 60 fanno breccia nel cuore e nelle orecchie dei giovani e dei giovanissimi anche nel 2016. Nea la dimostrazione lampante è un concerto ottenuto da Edoardo Vianello in un locale pubblico del Valdarno Aretino. Due ore di puro divertimento intervallate anche da band locali. In particolare ad esibirsi prima e dopo Vianello sono stati i Senza Filtro di Terra Nuova Bracciolini e gli Angeli in Blue Jeans di Montevarchi. Grande soddisfazione dunque per gli organizzatori e tanto entusiasmo tra i presenti che al ritmo di Tintarella di Luna e altri successi di Edoardo Vianello si sono letteralmente scatenati. Edoardo Vianello in un locale è un popolo del Vianello di C'è la Lua, C'è la Lua, C'è la Lua, C'è la Luaình, C'è la Lua, C'è la Lua, C'è la Lua. Edoardo Vianello in un locale è un'olpio di Tintarella di Lua. Grazie a tutti.